Ciao a tutti! Oggi prepareremo la composta di peperoni e melanzane. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono peperoni rossi cotti e spellati, melanzana cotta, aglio senza anima, olio evo, sale e origano. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i peperoni, le melanzane, ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 5. riunire sul fondo del boccale con la spatola e cuocere per 5 minuti, 90 gradi, velocità 3. Aggiungere l'olio, il sale e l'origano e cuocere per 10 minuti, 90 gradi, velocità 2. trasferire in masetti di vetro sterilizzati, lasciare raffreddare e conservare in frigo. Composta di peperoni e melanzane, si conserva in frigo per 7 giorni, ideale per grigliate di carne spalmata su crostini o come sugo per condire la pasta. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!